superanima 7 la scuola celeste di jane roberts capitolo 24 discussioni tra una vita e l'altra lydia non crede di essere morta ma cromwell lo sa lydia e lawrence erano in macchina lydia pulì con soddisfazione i suoi occhiali da sole se li rimise e accese una sigaretta mi devi credere diceva disperatamente lawrence ho cercato di dirtelo durante il picnic siamo tutti e due morti tutto questo la strada il paesaggio il camper è tutto un'allucinazione beh in senso più ampio non esiste semplicemente non è reale lydia accarezzò greenacre e greenacre è morto pure lui immagino si divertiva a stuzzicare lawrence no greenacre il gatto in carne ed ossa non è morto o meglio non lo so può darsi che sia morto non ne so abbastanza per stabilire lo stato mortale di quel particolare gatto bene sono contenta di sentirtelo ammettere cos'è comunque una nuova filosofia che hai scovato da qualche parte ha fatto sicuramente presa direi non ho mai sentito parlare di una cosa talmente lydia mi devi credere disse lawrence ma se il camper è un'allucinazione come mai non stacco gli occhi dalla strada abitudine pura abitudine ribatte lui d'accordo andrò avanti tanto per discutere ma se tutto questo non è reale e tu ne sei cosciente allora non dovresti crederci e tutto scomparirebbe non è così che funzionano le allucinazioni e infatti non ci credo fece lawrence zitto non trillare con me in vita tua non ti ho mai sentito discutere o alzare la voce così e tanto meno su una questione esoterico filosofica ma tu ci credi esclamò lawrence e finché ci crederai continuerà a succedere per giunta quel vecchio cioè superanima sette sta tenendo in piedi tutto questo anche per te guarda guarda com'è carino da parte sua l'onest è nella bocca chiusa e continuò a guidare ma dopo un po' disse lo sai quanto sei ringiovanita guardati allo specchio dimostri trent'anni questo se non altro dovrebbe convincerti ecco si tratta di altro cosa ti fa pensare che pur essendo morta sarei piena di vita e ringiovanirei se fossi morta sarei un cadavere e non mi succederebbe un bel niente non sognerei nemmeno se questo che stai per dire no lydia non stai sognando certo che no lawrence mandò un gemito proprio non capisco cosa stia succedendo disse lydia lo ammetto e poi com'è che tu dimostri ancora più o meno 60 anni così mi avresti riconosciuto sinceramente lerry è semplicemente assurdo tu non sei malato vero se non lo sono non ne so il perché lydia io non sono malato sono morto non ho mai conosciuto una persona tanto testarda in vita mia francamente mi sto stufando lawrence proprio non ti capisco se siamo morti dimostralo d'accordo lo farò ribatte lawrence immaginò di essere giovane sforzandosi di ricordare che aspetto avrebbe avuto lydia al suo fianco cacciò un grido di stupore sei ringiovanito proprio come è successo a me hai un aspetto magnifico oh lerry cosa diavolo abbiamo scoperto se gli scienziati se ne accorgono saremo famosi lawrence fu colto alla sprovvista dal tono di lydia e si rese conto che la coscienza della donna non era ancora del tutto a posto lydia non era in possesso delle sue piene facoltà mentali lawrence aveva il sospetto che fosse per la paura di scoprire la verità e la verità andava contro le convinzioni di lydia sulla natura della realtà come se non bastasse tutto questo era completamente nuovo per lui e si sforzava di afferrarlo cosa c'è per pranzo chiese lydia nel frigo ci sarà tutto ciò che desideriamo immagino rispose lawrence in tono sarcastico beh se è così che funzionano le allucinazioni allora voto per loro disse lydia oh lerry non vorrei ferire i tuoi sentimenti ma andare in macchina con un uomo che è convinto di essere morto è proprio una novità tu ne hai avute di idee strambe in passato ma siamo vivi e siamo comunque morti beh ti dirò che questo è un concetto assai più simpatico lydia si interruppe accarezzò il gatto greenacre vivo o morto tu ronfi come due gatti messi assieme lawrence disse tu lo sai cosa si prova a guidare in un paesaggio che in realtà non esiste cercando di convincere la tua signora che è morta lerry devi ammettere che la cosa sembra piuttosto folle ne uscirebbe un magnifico racconto però tu stai scherzando vero lydia cosa pensi che succederebbe se tu tornassi in quello spizio di la verità è stato un incubo tremendo o che brutta cosa da proporre ma lorence ricordò di come funzionavano le cose o sembravano funzionare se pensare di essere giovane faceva diventare giovani dunque pensare di si concentrò su lydia immaginando la vecchia in quello spizio e pensando a cosa doveva aver significato per lei cercò di immaginare come doveva essere stato stavano attraversando il corridoio lorence lydia gli afferrò la mano ma che succede lorence diete un'occhiata attorno beh almeno si era sbarazzato del camper forse i ricordi dell'ospizio avrebbero dato uno scossone a lydia e gli avrebbero permesso di affrontare la verità e allora disse questa è la casa dove vivevi quando avevi una certa età ma non temere ormai è tutto finito io non ho paura sono furiosa e che ne è stato del camper lydia si interruppe di nuovo ma guarda conosco quelle infermiere quella è la signora holly che parla con dolcezza vedi ti tornerà tutto in mente disse lorence beh e se non volessi disse lydia in tono provocatorio ora sono giovane intendo restare giovane lo puoi lo sei non avere quel tono con me lerry e in pubblico ma cosa ti salta in mente lydia si interruppe oh mi sono appena ricordata di un'altra cosa un vecchio si chiama cromwell credo che gli farò una visitina non andare così svelto lorence dovrei parlare con le infermiere non credi non mi riconosceranno mai di sicuro sono così giovane lorence scosse la testa era inutile dire qualunque cosa le due donne stavano parlando e non ci fecero caso quando lydia e lorence passarono lì accanto guarda non hanno fatto neppure un cenno disse lydia verrebbe da pensare che non ci hanno proprio visti infatti non ci hanno visti disse lorence mia cara noi siamo dei fantasmi lydia lo so l'età di lorence era stabilizzata più o meno sui 28 anni ma come lei si sentiva così esuberante per sé per lui e lui si metteva a parlare di tutte quelle sciocchezze io cerco di capire cosa sta succedendo disse e tu non sai far altro che blatterare di quest'idiozia che siamo morti ora smettila o sarà meglio che non entri insieme a me non faresti altro che scombussolare cromwell l'ultima volta che l'ho visto era abbastanza confuso starò tranquillo disse lorence così va meglio idea sorrise ed entrò a passo di danza nella stanza comune ma a quel punto rimase senza fiato lo sdentato cromwell aveva un aspetto semplicemente orribile o larry esclamò involontariamente lydia lorence non disse nulla le strinse solo più forte il braccio i pazienti erano seduti sulle loro sedie a rotelle tutto attorno a pareti della stanza certi come cromwell erano legati alle sedie la faccia di cromwell era incavata si era sbarazzato delle scarpe e delle calze e non aveva più neanche un dente la televisione era accesa c'era una partita di baseball ma l'immagine era sfocata il cronista commentava le azioni della partita una vecchia russava forte era sistemata per bene sulla sua sedia a rotelle teneva in mano un biscotto al cioccolato che si stava sciogliendo quella vecchia ha un aspetto vagamente familiare disse lydia ho già fatto questo sogno davvero lorence fece un mezzo sorriso ora forse sarebbe riuscito a convincerla della verità lydia avrebbe potuto crederci anche solo per uscire da quel posto cos'è quel rumore disse lydia non si riesce neanche a pensare lorence ascoltò tamburi canti una terribile banda musicale oh fece lydia la funzione domenicale della società delle missioni no grazie non ci sono mai andata matta o no quando è che non ci andavi chiese lorence beh le domeniche quando c'era la funzione non è questo che intendevo e lo sai oh smettila chi lo sa cosa intendi lydia si interrompe un giovanotto era seduto sul davanzale stava leggendo aveva i capelli rossi e portava un cappello di feltro frivolo ma carino pensò lydia e diede una vomitata a lorence mi domando chi è non si comporta come un visitatore non può certo essere un inserviente proprio in quel momento apparve una giovane donna sembrava agitata quasi arrabbiata e prima che lorence o lydia potessero dire o fare qualunque cosa si diresse a grandi passi verso la porta e uscì nell'atrio i due la seguirono la banda stonata ora suonava più forte e la sua musica proveniva evidentemente da una stanza aperta in fondo all'atrio la giovane donna stava all'entrata e sbirciava dentro quasi con insolenza poi disse stizzita che chiasso disgustoso per amor del cielo non potreste smetterla andarvene a casa questi poveri vecchi li farete diventare matti se già non lo fossero la musica proseguì idioti urlò la donna tornando indietro ma non è il colmo disse a lydia ad ogni modo chi siete non siete di qui io sono lydia lydia e chi diavolo ci fai di nuovo qua beh veramente non lo so comunque non ricordo di avervi mai incontrata ma titi non si è messa in contatto con te titi la giovane donna si rivolse a lorenz ascolta lei non dovrebbe essere qui e non so nemmeno cosa ci fai tu è un po difficile da spiegare disse lorenz cromwell gridò la donna è meglio che tu venga qui lydia si voltò verso il corpo di cromwell che era seduto proprio là il giovanotto alzò gli occhi dal libro che c'è sto leggendo ma alla vista di lydia si avvicinò alzando il cappello verde in segno di saluto questa è la tua vecchia amica lydia che tu ci creda o no disse la donna almeno credo e non ha la minima idea di cosa stia succedendo spiegaglielo tu cromwell sorrise come illuminato certo ero così occupato che non me ne sono accorto ho solo notato che erano entrate delle persone del nostro tipo intendo guardò lydia eppure una volta ti sei trasformata nel tuo sei più giovane mentre eri fuori dal corpo assieme a me scusa se non ti ho riconosciuta ma io esordi lydia cromwell interruppe sorridendo è fantastico rivederti questo signore è uno dei tuoi amici noi siamo gli unici rimasti della vecchia combriccola la vecchia combriccola chiese lydia lei non lo sa disse lorence in tono eloquente non vuole credermi ah non lo sa il giovanotto sorrise e così non vuoi ricordare eh disse a lydia ridendo ricordare cosa rispose lydia seccata tu sei il nipote di cromwell o qualcosa del genere beh non è molto gentile da parte tua comportarti così mentre lui è in una condizione così orribile certo che non è carino disse il giovanotto giulivo non può neanche sputare tra i denti lydia era sconvolta ed un tratto si sentì molto stanca per quanto ancora vuoi evitare di affrontare la situazione disse il giovanotto sta a vedere le sorrise andò accanto al corpo del vecchio cromwell e scomparve dentro di esso cromwell aprì gli occhi ecco cosa ci voleva lydia corse alla finestra piangendo e vide nella sua mente lei e cromwell due vecchie rimbambiti che volavano sopra il giardino della casa di riposo guardando i passeggini di sotto e le panchine e tutto le tornò alla memoria che brutto scherzo disse ansimando quando fu in grado di parlare l'avrei affrontato da sola è talmente pazzesco sei così testarda disse lorenzo cromwell quello giovane gironzolava per la stanza almeno sei morta serena disse stiamo tutti qui studiando imparando ma dobbiamo ancora affrontare la questione della morte e tutti quegli idioti là fuori che strillano sul paradiso e la felicità eterna disse la giovane donna a proposito lydia ti ricordi di me adesso sono maraia laggiù la vecchia signora col biscottino oh esclamò lydia dov'è il mio corpo allora deve essere stato seppellito no cremato disse lorenz e anche il mio lo abbiamo deciso in anticipo di solito si deve aspettare finché non sei proprio stufi del proprio corpo disse maraia sarebbe come dire che il corpo tira semplicemente avanti finché non funziona più lo vedi il mio corpo là in fondo gli piace ancora mangiare lo desidera ancora e fino a prova contraria un corpo ai suoi diritti il mio cerca di tener duro disse cromwell e rimase lì a guardarlo con un'aria molto spigliata ho cercato due volte di lasciarlo ma quello ha reagito e se l'è cavata perciò in un certo senso devi dargli il premio che gli spetta io dovrò proprio sfinirlo ma finché ha resistito è stato un corpo eccezionale io invece me ne sono andato di colpo disse lorenz credevo che fosse così per tutti ma no certo lydia quando è morta non se ne accorta nemmeno io invece sì credo di aver sentito una fitta di rimpianto quando ho lasciato il mio corpo sulla panchina del parco con l'aiuto di lydia sapevo che non volevo invecchiare in quel corpo o meglio non volevo che quel corpo invecchiasse ma ora sono sorpreso aveva ancora tanta vitalità eppure l'avevo deciso io senza quasi rendermene conto deve essere stato questo a creare il divario morire e imparare disse maraia sorridendo ma davvero lydia tt stava proprio cercando lydia io ho cercato di aiutarti quando sei morta interruppe cromwell ma tu non volevi permettermi di d'accordo disse lydia ma chi è tt non ne ho idea rispose maraia ma forse ha a che fare con le lezioni che seguiamo noi comprendiamo più o meno cosa succede qui attorno e cerchiamo di dare una mano ad altre persone quando incominciano ad agire fuori dai loro corpi esattamente come cromwell ha fatto con te ormai siamo abbastanza convinti che le lezioni siano per certi versi immaginarie ma per certi altri versi reali certo le cose che impariamo sono abbastanza reali ma forse la stanza gli insegnanti e via dicendo sono solo immagini o proiezioni create apposta per noi per farci comprendere e resta comunque il fatto che stiamo decidendo se vogliamo rinascere e se è così in quali circostanze disse cromwell e stiamo imparando che non possiamo intellettualizzare tutto sembri senz'altro più istruito di prima disse lydia sbagliavi continuamente le parole e tu a modo tuo eri un po snob disse cromwell lydia sospirò credo di sì beh faresti meglio trovare titti era presente prima quando eri qui ho cercato una volta di dirtelo disse maraia sì mi ricordo a un certo punto di aver sentito una voce lydia s'interruppe poi disse ma cromwell se tu vuoi morire perché il tuo corpo non te lo permette o lo farebbe se lo costringessi davvero ma le cellule sono ancora vive e ci sono certe parti che funzionano benissimo e a dir la verità credo che il mio corpo sia più sollevato e tranquillo se ci sto fuori senza starlo sempre a seccare finché mi tengo occupato e sono contento credo che non dovrei impedirglielo e anche i corpi cambiano grazie al cielo disse maraia cambiano le cellule la consapevolezza i corpi vogliono la loro soddisfazione strano perfino il mio che mangia in continuazione quei disgustosi biscotti al cioccolato io l'ho sentito mentre anelava di tornare sulla terra ma senza una struttura organizzata tanto per cambiare è libero di essere qualunque cosa anche solo di espandersi ed è stupefacente la vitalità dei nostri corpi quelli che abbiamo adesso sono magnifici naturalmente non invecchiano ma ti fanno apprezzare ancora di più i corpi fisici con tutte le tensioni che sopportano credo che sto per piangere disse lidia non so neanche dov'è il mio florence sorrise roger tiene le ceneri in un vaso di maionese non so come gli sia venuto in mente larry è orribile prima di fare qualunque altra cosa aprirò quel vaso ne farò uscire le ceneri e le spargerò da qualche parte dove possono essere libere non mi è mai piaciuta neanche la maionese d'un tratto si interrompe beh se sono viva anche se sono morta devo avere un'anima allora ho sempre pensato che fossero solo un gran mucchio di sciocchezze senti che baccano grido a maraia la funzione della domenica stava terminando non appena lidia e maria ebbero smesso di parlare la banda produco in una sonora stonata interpretazione di più vicino a te o signor mio lydia si fece torva e disse ecco cosa intendo quella roba ma nel frattempo proprio mentre lydia stava dicendo devo avere un'anima apparve superanima sette lei si voltò immediatamente e lo vide negli occhi di sette lydia rivide tutti i propri ricordi fin dal giorno della sua nascita seppe chi era lei e chi era sette vide l'amore e l'ordine che c'erano sempre stati dietro i suoi giorni e l'ospedale scomparve e anche Lorenz e Mariah e Cromwell